Fra una decina di giorni più o meno Poi noi torneremo Torneremo con dei quiz I quiz Come sarebbero questi quiz? Allora, ognuno quando vedremo questi fogli Questi segnalibro Ci sta scritto sotto qui www.robertococco.it Voi vi collegate A questo sito E troverete una schermata Dove sta scritto sezione patentino Ed è un Sono i quiz della patente Del ministero Dei trasporti E' ministeriale Quindi è una cosa dello Stato Silenzio per cortesia Per chi prende il patentino Siccome voi fra poco Conferrete 14 anni Allora cominciate intanto A fare un po' di Come si dice Un po' di notizie A prendere un po' di notizie E lì troverete questi quiz Questi quiz che sono facili Perché basta prestarci un po' di attenzione Allora cliccate sul patentino Vi appare una schermata E sta scritto